il vostro numerino, metteteci la faccia, cercate di essere voi stessi, poi vedrete che arriverà anche il numero di telefono, ma così non vi chiameranno mai, perché le donne sono abituate ad essere corteggiate e ad avere centinaia di numeri di telefono, quindi avere un in più un in meno non gli fa proprio niente. Numero 102, ragazzi è un uomo, 102, chi è questo maschio? 102, non si sa, uomini guardatevi il numero, 102, non si sa chi è, va beh, patente, andiamo avanti, numero, numero 14, è una donna ancora, eccola qua, l'abbiamo trovata, eccola 14, ciao, come ti chiami? Silvia, da dove vieni? Cosa fai di bello nella vita? Lavoro in una pasticceria, hai dei campioni in macchina? Peccato, quest'altra volta portali, ascolta, tu come vorresti l'uomo ideale? Semplice che la faccia divertire, che balli, ecco, semplice che la faccia divertire, che balli, Don Lurio è il tuo uomo ideale, e vai, grande Don Lurio, allora Silvia lei e Silvio vedo lui, e vai, e nacque un bel bambino, fantastico ragazzi, fantastico, eh lo so, sì sì, tutto ok,